Musica In cussizzù regionale sicchini sostrapallor supra su disinudelezze barantachimbe chi pertocca sasari asidoneas e noidoneas a propone rimpiantor d'energia dai vonte rinnovabilese in custardir di adeperar ribare su parre desucal e su parre finanziario desetres commissionese sa maggioranzia è spunnante a ribare a sa discussione e a sa approvazione definitiva in aula intro su mese desantu gabine Er decustu manzano una riunione de maggioranzia pro discutere desa variazione de bilanciu chiana discutiu vinza sa bortedie in aula uveana va vedda operi desa mozione che pertocca sato azione desu comparto unico de contrattazione collettiva primo virmatario su capogruppo desos progressista al Francesco Agus essa mozione è presentata a Manzano deso scussizzere desu partiu Sardegna al centro 20-20 in favore desu comparto desor balneares si chiedi a traballare vinza sa eses commissiones presedia dai Carla Fundoni pro se esame desa proposta adelezze chi previditi su commissariamento desas asl su un istaur fatto su uno scanto sadobbios in sosterritorioso e in sosispidale sardoso pro collire informazionese e poder licenziare su provvedimento canto prima S'epidemia del Limba Blu in Sardegna dai vattu dannos pro 20 chimbe milioner de euro a Lunar eres col diretti Sardegna che ha fatto un appello a sa regione pro declarare si stato de emergenza e fa che era una unidade de crisi permanente pro su presidente Battista Qualbo e su direttore Luca Saba sull'intervento secottiano se sar misura spreventiva armancada sana gravasa situazione che arrisca depegiorare galude pruso sordator desepidemia che vinza sa commo a caglionasa morte de binti midza capor mustrana una situazione mezzanameda in dunacchida dai primadie a susette de santugabine sul focolaio esattivo suncolao da eduamiza setichento settantotto a tremize bintotto su nove prochento impruso in sette diese sa provincia prus scorfia e sa e tattari assichire sa e aristanis castellu campidano de mesu e sulcis pro col diretti sprezziso agire direttu pro parare fronte a su virus e avviare uno gruppo de traballu che poda gestire sos indennizoso attivare misurasi straordinarie ardee risarcimento a sas azienda scorfiasa ponere in campo totus os instrumentor necessario scontra a costa emergenzia copagri sardigna puru pediti de mudare passo prosu presidente giuseppe patteri biccherito un piano de azione derretu pro prevenne de contrastare s'epidemia si spera eschiso sindennizzo desa regione estannar s trequentos euros a capu si torna a piccare in considero bien desa gravidate desa situazione sardines faide a tonzo sapato 2 che domenica 3 che torna a sardigna dan resa occasione di visitare loco spaccu con nottoso e che non è facile accattare apertoso un appuntamento che pone parisi arte istoria e natura grazie a su traballo desor volontario desuvai e a sor zovano schi esi prestana a facer de ghia in tre sol locos protagonista de custa edizione sa salina sconti vecchi de assemini uve sa produzione desusale andata a manutenta kinsamparu desambiente in casteddu in pur desappendizio desantu bertul sa ta poder visitare su deposito ex pol nato desantelia in uliana su percurso le radici del colore ammentata sartista Liliana Cano in soskentannor desanaschida kindun omaggio a solligame nel fungudo schiaiata kinsaterra sarda su museu mag deusellus chere trasmittere su rispetto prosa natura e sa diversidade kindun ad esa scollezione erzoologica sprulmannar desisula mentras in palao sarbateria stalmone torran a bida sa memoria desistoria militare nostra in tattaria naperere sarjannas de palattu permitti a un'imprendidora a rimani erising aduresu naschidae un'esperienza diretta che in sarfeminer desarvidar de sardigna promedasannor difatti si l'hanno ospitato in domi soro proche collire segretos e manera de traballare pane e pasta un'arte chissà comparti chi ti cac considerata su traballo comente una missione di vida in sultimo laboratorio che ha fatto simonetta abazzo attimparava sarfeminer des azienda terranovesa bibite lacconi e a dosi influencer coreanos a facer lorighittas lados gravellos e chiusoni e tutto chi in elegancia capro issa su pane si pode facer fincesi intacchittos senza rinunziare a sa classe a sa personalidade e custueschi distinghe su turismo esperienziale chi propone tissa pompiata su passau ma prosestare subenente chi in un ocru puntao cara a sestero simonetta abazzo erfamada mescamente in sestero e cadadie a domo des orbisai osarribbana persone del tutto su mundo prola doviare in un locu magico fora a zomai desa realtà chinsattonzo torrat a cominciare sa programmazione desuten denugoro un cartellone chi accuntenta tedadesi gustor differentese chi previdi finza scarchi replica desu chiesti stau sultimo spettacolo su prusa preziaude sardegna teatro il giorno del giudizio in sardu sesi spettacolo or differente finza sa assuser de nadale e duos progetto novor de kirka artistica un dedicava a sinfanzia sateru assi sperimentazione in su palco si stajone de attonzo duamize binti bator desu teatro eliseo denugoro gestiu da sardegna teatro torrat a cominciare custa chida e un desu sprimos appuntamentos escusso chinsadie desu sudissio desu salvadore esatte in sardu sa regia erde marco spiga e in sistajone passade stista uno desu si spettacolo spruz applaudioso sa prima novidade in bezz esesto un spettacolo che va verra desu prima infanzia la qua in programma oie e crar borta edie binchidore desu premio eolo duamize binti batoro ispirau a sas prima regorter de bruno tognolini fa che pensare a sas prima presentato vincisa in londra e in slovenia noi spruz tempur desu con nortare pro esordio europeo de custosere in lisbona chiamate le cronaca diretta desu sottemese in tele sardegna sallenatore marco vici pretende una partia concreta e concentrada che deve ponere in pratica su piano partia si sport ingest un squadra chiamate dinamo banco de sardegna bosniaco e sconvinto che custosere si squadra si può dare scattare e può abboccare a pizzo tutto su valore per affrontare domenica chi venite su napoli in campionau marcovich dà fiduzia a sosa americanos che propone pare in ritardo in sa condizione atletica dai bibbins a refro e a fobs che ha fatto vire un mudamento in mezzo in in su second tempus in milano ma da su capitano benzius ed su italianos capelletti udome tambone chi si zetta da deproso a sorioca adores si pediti di dare pruscare in fase difensiva da pon spruzazza su canestro e pruspa carbozza sperdi a scambio andata in attacco questo sospesigno schizano passavano a permittio a dinamo de marcovich devincere chi in totus ha si squadra spruzforte e su campionato e nantir desi perdere in su percurso pro andare a su dispareggioso